Ben trovati, oggi vorrei leggere il capitolo 12 di Luca perché un brano, la domanda oggi è perché serve essere sempre pronti, un po' come quello che dicono anche i scout, sempre pronti. Allora vediamo da dove viene questo, viene come vi dicevo prima del capitolo 12 di Luca che dice cercate di capire questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro non si lascerebbe scassinare la casa, anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse signore questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il signore rispose chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il signore metterà a capo di quella servitù. Insomma e poi beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Gesù chiede quindi di essere sempre pronti. Per quale motivo? Perché si risponde non si sa mai per quanto tempo una persona vive. Voi sapete benissimo che oggi ci siamo, domani o poco dopo possiamo anche non esserci più. Quindi questa potrebbe essere una risposta ma non è l'unica. Quello che ci richiama questo Vangelo è soprattutto di essere vigili nella nostra vita, di non sprecare il tempo che abbiamo della nostra esistenza così, per vivacchiare come diceva Pier Giorgio Frassati che tra l'altro il Papa più volte ha ripreso nei suoi incontri con i giovani. Vivere e non vivacchiare diceva Pier Giorgio Frassati e ha ragione nel senso che Gesù ci dice proprio questo. Non sprecate la vostra vita, non sprecate il vostro tempo, siate pronti ma non perché non sapete quanto dura ma semplicemente perché fate della vostra vita un'opera d'arte, muovetevi, usate questa vita ogni momento della vostra vita, non sfuggite la vostra responsabilità. Il Signore ci ha dato una vita, ci l'ha dato e un dono, facciamo fruttificare questa vita, diamo un senso alla nostra vita, se no che facciamo? In costanza, in coerenza, fragilità, la nostra vita deve essere solo questo e non saremo felici. Invece prendere la nostra responsabilità, essere vigili, essere pronti ad accoglierlo sempre. Quello è essere realmente in un sì al Signore. Quando uno si sposa e dice di sì, non è un sì che dice una volta e basta, lo ripete ogni volta, ogni giorno, in ogni azione di amore che fa verso sua moglie o il suo marito. Bene, così il cristiano è con Dio, ogni giorno è chiamato a dire di sì, ecco perché deve essere vigile, se no la vita è un vivacchiare e va avanti, ma non dà gioia a questa vita, non è una vita piena, una vita vissuta. Il Signore allora attraverso questa parola, questo modo di fare, di dire di essere vigili, di essere sempre pronti, ci richiama a questo, a vivere pienamente. Grazie.